carissimi pace pace del signore voi tutti buona giornata oggi è 6 maggio e sono le sette del mattino come ogni mattina vogliamo leggere nella parola di dio in particolare nel libro della genesi al capitolo 40 leggeremo i primi 23 versi continuano quelle che potremmo definire le disavventure di giuseppe si trova in prigione e mentre si trova in prigione in prigione avviene che il coppiere il panettiere del re di egitto offendono il loro signore e di conseguenza vengono messi in carcere nella stessa prigione dove tra l'altro si trovava giuseppe rinchiuso il capitano delle guardie affidò questi due alla sorveglianza di giuseppe il quale li serviva ed essi dice la scrittura verso 4 di genesi 40 rimasero in prigione per un certo tempo una notte sia il coppiere sia il panettiere hanno un sogno sogni diversi che però li turbano e giuseppe la mattina li guarda li vede turbati e chiede loro che cosa causa questo loro turbamento ed entrambi rispondono che avevano fatto un sogno e non riuscivano a comprenderne l'interpretazione e giuseppe dice loro verso 8 le interpretazioni non appartengono forse a dio raccontatemi i sogni vi prego e allora avviene che il coppiere racconta il suo sogno nel raccontarlo dice che nel sogno vide davanti a lui una vite che in quella vita c'erano tre tralci una vita che sembrava germogliare e fiorire e dare dei grappoli d'uva matura e poi aggiunge io avevo in mano la coppa del faraone presi l'uva la spremetti nella coppa del faraone diedi la coppa in mano al faraone giuseppe risponde l'interpretazione è questa i tre tralci sono tre giorni e tra tre giorni il faraone ti farà rialzare il capo ti ristabilirà nel tuo incarico e tu darai mano al faraone la sua coppa esattamente come facevi prima visto che l'interpretazione del sogno era favorevole il panettiere del re si incoraggiò e presentò anche lui il suo sogno un sogno simile sotto alcuni aspetti infatti egli sogno che aveva tre canestri di pane bianco sul capo il canestro più alto era caratterizzato dalla presenza di vivande cotte al forno per il faraone e c'erano gli uccelli del cielo che le mangiavano dentro al canestro la risposta di giuseppe fu immediata anche qui anche se l'interpretazione non fu favorevole egli infatti dichiarò questa è l'interpretazione del sogno i tre canestri sono tre giorni ancora tre giorni e fare a il farone alzerà la tua testa ma ti farà impiccare un albero e gli uccelli del cielo mangeranno la tua carne addosso a te passano i tre giorni arriva il compleanno di faraone egli fa un banchetto e avviene quello che giuseppe aveva detto tramite l'interpretazione del sogno cioè ristabilì il capo dei coppieri verso 21 nel suo ufficio e verso 22 fece impiccare il capo dei panettieri innanzitutto notiamo che le parole di giuseppe cioè l'interpretazione appartiene a dio sono un insegnamento che dovremmo sempre tenere presente ora noi sappiamo che i sogni sono qualcosa che caratterizzano la nostra vita d'altronde la scrittura lo dichiara che con le molte fatiche arrivano i molti pensieri arrivano anche i sogni e quindi ci sono dei sogni che sono semplicemente il frutto di quello che viviamo e delle elaborazioni che la nostra mente fa durante il sonno ma ci sono dei sogni che invece sono un modo di cui il signore si serve per parlare alla nostra vita guardando un po il contesto biblico ci accorgiamo che i sogni hanno sempre lo scopo di dare una guida pratica per colui che il sogno riceve e realizziamo sempre dalla lettura della bibbia nel suo complesso che se è vero che sono gli uomini a dare le interpretazioni queste interpretazioni sono delle rivelazioni che vengono da parte del signore quindi quando qualcosa che noi sogniamo ci turba lo vogliamo presentare al signore e confidare nel fatto che egli può direttamente o indirettamente tramite un fratello e una sorella rivelarci quello che egli ci vuole dire l'altro aspetto che notiamo è che l'interpretazione fu diversa anche se i sogni potevano essere apparentemente uguali e questo perché dio aveva un messaggio diverso uno per il coppiere uno per il palettiere e ancora oggi il signore ha dei messaggi da dare ai suoi figli a quelli che amano e temono il suo nome delle volte sono dei messaggi di incoraggiamento sono dei messaggi che sicuramente rallegrano l'anima nostra e ci aiutano ad andare avanti altre volte sono delle riprensioni anche delle potenziali condanne che gravano sulla nostra vita a causa magari di una condizione di peccato che stiamo vivendo se nella prima parte nel primo caso è naturale dare gloria a dio anche nel secondo lo dobbiamo fare accompagnando a questo il nostro ravvedimento in modo che il signore possa ritirare la sua ira dalla nostra vita e possa tornare a benedirci nel vedere che diventiamo figli ubbidienti a tutta la sua parola quando l'interpretazione viene data e quando il signore agisce esattamente come aveva letto tramite i sogni giuseppe nel salutare il coppiere gli dice ricordati di me quando sarai uscito fuori in modo tale che io possa essere tirato fuori dalla condizione in cui mi trovo in quanto non ho fatto nulla di male utilizza in altre parole sta dicendo la tua posizione affinché il farone possa sapere del mio caso e se lo riterrà opportuno usare giustizia nei miei confronti liberandomi dalle catene in cui mi trovo il coppiere però verso 23 non si ricordò di giuseppe ma lo dimenticò e qui mi vengono in mente due considerazioni brevi da fare innanzitutto il fatto che noi spesso ci dimentichiamo delle promesse che facciamo questo sia nei confronti delle persone sia nei confronti del signore ed è qualcosa nella quale dobbiamo avere uno spirito di pentimento di ravvedimento perché probabilmente lo stress della vita gli impegni che incalzano la nostra esistenza ci portano spesso appunto a tralasciare degli impegni che abbiamo preso ma questo non è una giustificazione dobbiamo anzi dire signore perdonami e se la nostra mancanza è verso qualche fratello qualche sorella lui o a lei dobbiamo chiedere perdono la seconda cosa è che se è vero che giuseppe venne dimenticato dal coppiere è altrettanto vero che c'è qualcuno che di noi non si dimentica sul calvario il buon ladrone disse a gesù signore ricordati di me quando sarai lì nel cielo e il signore gli disse io ti dico che oggi stesso sarai con me in paradiso il coppiere si dimenticò gli uomini si possono dimenticare il signore non si dimentica mai di noi e con questa certezza vogliamo affrontare questa giornata esaminando sicuramente la nostra vita per vedere che non ci sia qualche promessa fatta alla quale siamo mancanti per ovviare all'errore commesso e metterci di nuovo nella giusta condizione per essere in comunione col signore in comunione con la fratellanza la grazia di dio la sua pace il suo amore sia con tutti quanti noi e ci accompagni durante questa giornata grazie a tutti 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 grazie a tutti